eccoci qui anche oggi a fare la scorta per i nostri piccoli grazie a voi i nostri cucciolotti mangiano sempre e quanto mangiano si si tanto mangiano garantisco che tutti le pancette la la colpa non è la mia la colpa è perché loro mi chiamano e io gli devo mangiare e certo non gli puoi dire di no ma gli devono fare lo spuntino perché poi si mangiano la pappa va bene volevamo quindi ricordarvi che i nostri cuccioli hanno bisogno di voi e che i vostri aiuti attraverso la surf sono molto graditi è una cosa molto importante se qualche volta ci dimentichiamo di ringraziare qualcuno qualche nome ogni tanto lo saltiamo è perché non abbiamo testa perché siamo talmente impegnati che non ci ricordiamo niente più perché loro della SARS ce lo scrivono su dei foglietti e ogni tanto qualche foglietto va perso noi lo leggiamo ma quando facciamo la lista dei nomi qualche volta succede che ne dimentichiamo qualcuno quindi vogliate perdonarci questo è quello che spendiamo noi due volte alla settimana perché i nostri cani mangiano certo che mangiano e questo lo scontrino però il prossimo quando ritorniamo è sempre uguale più o meno tra i 400 e i 450 euro ok 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 ok